Ora, vediamo di metterlo qua, sperando che non cada, ok. Buon salve a tutti, io sono sempre NotMe, vi è piaciuta la sigla incredibilmente diversa, eh? Eh? Di, di, di. Che cos'è iNotDev? È un piccolo vlog che vorrei fare per parlarvi di quello che sto sviluppando, sviluppando appunto giochi, sviluppo giochi per chi non lo sapesse, per le due persone che non lo sanno, giochi, tra molte virgolette. Volevo giusto dire, dirvi cosa sto facendo e più o meno se c'è una scadenza, se... Cioè, per darvi informazioni, ho visto lo schermo dietro che si illumina, il che mi preoccupa, però c'è il laser, quindi dovrei essere a fuoco, dovrei. Progetto numero uno, SketchRun, un piccolo giochino per cellulari che sto sviluppando per Android, non lo farò uscire almeno non subito per iOS, più che altro perché ho bisogno di licenze che dovrei comprarmi e quindi non ho soldi e quindi nope. È una robetta molto semplice, è un infinite run più o meno, quindi scorrimento orizzontale, sì, e mi serviva principalmente per fare dei piccoli test e allora ho detto semplicemente, visto che ce l'ho già, visto che comunque lo dovevo fare per fare dei test, a sto punto lo faccio uscire. E questo molto probabilmente, se riesco, uscirà più o meno a fine mese, molto più o meno, devo ancora fare le musiche, quindi forse ci metterò un po' di più perché devo prendere roba, poi devo cercare di farmi un account per sviluppatori di Google che sono altri cazzi, quindi fine mese prendetelo come le pinze. Il secondo progetto non è boh, non è boh non perché non voglio continuarlo, ho intenzione di continuarlo, l'unica cosa ho bisogno prima di fare degli esperimenti, ho bisogno prima di capire bene come funziona il programma con cui sto programmando, che è Unity 3D, ho bisogno prima di avere un buono schema mentale per iniziare a programmare. Già questo qua, Sketch Run aveva un minimo di base, Demon ha una base molto più solida, sarà un platform roguelike principalmente, con qualcosina di azione, molto qualcosina, è più che altro appunto un esperimento per capire come funziona la randomizzazione delle cose, principalmente. E questo ha uno schema molto più grande, ce l'ho qua davanti, ve lo faccio vedere, non guardate il casino, questo è lo schema a grandi linee di Demon, ecco. E quindi niente, quindi boh, comunque si farà, ho intenzione di continuarlo, l'unica cosa appunto devo fare prima dei, diciamo, giochi intermedi per capire come fare le cose. E altra cosa importante, per Demon avrò l'aiuto di un mio amico, di Federico, che si occuperà della parte artistica, così devo solo pensare alla programmazione, poi lui è bravo. E quindi niente, direi che per oggi è abbastanza, ci si rivede alla prossima.